quello che vi ho appena mostrato ragazzi è un affondo frontale in salto quindi affondo in jump come fare per eseguire questo esercizio partiamo mettendoci in posizione di affondo frontale con la gamba sinistra avanti quindi facciamo il nostro affondo con grande intensità andiamo a fare un salto cambiamo gamba ok bisogna farlo molto veloce e molto intenso facciamo attenzione mentre saltiamo a non perdere l'equilibrio e non andare a sforzare il nostro ginocchio tenendo la gamba in questo modo quindi manteniamo le regole sono sempre le stesse di un affondo frontale l'unica cosa è che qui abbiamo il salto quindi faremo uno se non mi sento ancora pronta salto e eseguo questo affondo saltato molto lento in questo modo se invece mi sento pronta lo faccio in modo veloce le mani anche qua scegliete se preferite tenere davanti o nel fianco ciao e buon allenamento